Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un video potteriano spero molto molto interessante che potrà darvi una mano nei vostri acquisti, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling utilizzando il codice sconto 7Potter potrete avere il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti senza minimo di spesa e cumulabile con tutte le promozioni in corso di Pumpling. E su Pumpling trovate felpe come quella che indosso oggi, ma anche calzini, magliette, t-shirt, canottiere, mascherine, ragazzi, di tutto e di più a tema assolutamente nerd. E vi ricordo anche che in infobox trovate la mia galleria di Amazon, la mia vetrina di Amazon dove ho realizzato un negozio virtuale pieno di oggetti potteriani di altri fandom tutti selezionati da me in collaborazione appunto con Amazon. Ma detto questo direi di cominciare e ragazzi oggi ho deciso di parlare con voi delle varie edizioni disponibili in Italia della saga di Harry Potter e del loro valore. Ultimamente sto vedendo, soprattutto su Facebook, una compravendita forse nata dei volumi di Harry Potter. A volte vedo gente chiedere prezzi assurdi, prezzi altissimi per cose che non valgono assolutamente quel prezzo e altre volte, al contrario, vedo gente magari sprovveduta che vorrebbe vendere i propri pezzi per pochi euro e noto subito nei commenti gente che vuole approfittarsene. Questa è una cosa che mi dà molto molto fastidio e infatti di solito provvedo immediatamente a contattare quella persona spiegandogli che il prezzo che ha messo è errato, è un prezzo troppo basso e che quelle persone vogliono semplicemente approfittarsene. Perché un conto è acquistare una cosa inconsapevolmente senza sapere che quel prodotto magari vale molto di più, un altro conto è vedere gente esperta, gente che ne sa, approfittarsi di una persona che magari non si rende conto di cosa ha tra le mani. Quindi io in quel caso di solito avviso sempre. Magari c'è chi è contrario a questa cosa, ma non ve ne frega più di tanto, io lo faccio lo stesso. Detto questo, ho deciso di realizzare due video. Quello di oggi sarà interamente dedicato alla saga, mentre il prossimo sarà dedicato alla biblioteca di Hogwarts, così da darvi un po' un'infarinatura su quali sono le edizioni disponibili in Italia e quanto valgono per non farvi prendere delle sole clamorose. Quindi io non comincio da quella più vecchia fino a quella più nuova perché non avrebbe senso, ma invece faccio il contrario. Iniziamo dall'edizione 2021. Proprio in questi giorni Salani ha presentato e arriverà a breve nelle librerie la versione della saga 2021 con le copertine di un famoso architetto italiano che si chiama Michele De Lucchi. Questo architetto cosa ha fatto? Le copertine non sono state molto comprese perché sono state molto molto criticate anche su YouTube, che possono assolutamente piacere o non piacere, quello è un gusto personale, su questo non metto bocca, ma questo architetto cosa ha fatto? Ha preso delle sue opere e le ha inserite all'interno delle copertine di Harry Potter, quindi ha riadattato delle proprie opere in chiave potteriana, quindi una sua opera è diventata Il Castello di Hogwarts, un'altra opera è diventata La Capanna di Hagrid, un'altra è diventata Hatskaban, eccetera, eccetera. Quindi bisogna leggerla in questo modo ed apprezzare il fatto che siano delle copertine esclusivamente italiane, quindi realizzate appunto apposta per l'Italia, io le trovo interessanti. Spesso quando le copertine vengono un po' tra virgolette schifate da tutti e poi vanno fuori produzione perché magari l'anno prossimo uscirà una nuova serie, quelle copertine, essendo state vendute magari non moltissimo, assumono un valore molto alto perché diventano ricercate successivamente perché in primo momento non sono state prese quasi da nessuno e poi naturalmente c'è chi si pente e le vorrebbe recuperare. Quindi io già di base mi sentirei di comprare questa saga 2021 per metterla da parte in attesa che poi la gente si mangi le mani perché non l'ha capita, perché non ha voluto acquistarla a tempo, diciamo, al tempo del rilascio quando costava semplicemente il prezzo di copertina. Quindi questa edizione 2021 ovviamente vale il suo prezzo di copertina. Adesso andiamo al 2020. Nel 2020 troviamo Harry Potter e la pietra filosofale di MinaLima. Di MinaLima, versione illustrata, è andata esaurita praticamente ovunque. Ragazzi, la follia. La follia. Io ho visto gente comprare questo volume per 150 euro. Ho visto Aste su Ebay finire a cifre oltre 150 euro. Vedo gente ancora su Facebook chiedere prezzi come 90-100 euro per questo libro. Io posso capirlo qualora foste interessati ad avere la prima stampa. Quindi, ok, vuoi la prima stampa, ma in ogni caso a un mese dall'uscita non puoi spendere 90-100, 150 euro. Ok, vale qualcosa in più rispetto al prezzo di copertina, ma non quelle cifre. Il problema di fondo qui è che tutti pensano che questo libro sarà introvabile. MinaLima ha già annunciato la Camera dei Segreti per il prossimo autunno, quindi si è dato quel scontato che questo non sarà più ristampato. Io personalmente ho contattato Salani per voi, ho parlato con Salani, quindi ragazzi vi tranquillizzo. Il libro verrà ristampato, è in fase di ristampa e dovrebbe uscire nuovamente ad aprile. Quindi, più o meno a Pasqua, dovrebbe tornare disponibile nelle librerie. Quindi non fatevi salassare, non spendete 150 euro solo perché temete di non poterlo più acquistare. Ritornerà, ritornerà tranquillamente in libreria, ritornerà su Amazon, quindi calma. Sempre nel 2020 troviamo invece un'altra edizione della saga di tutti e sette libri, illustrata, le copertine illustrate da Johnny Dadol. E in questo caso, ragazzi, anche questo cofanetto che ha queste copertine, che a me piacciono, sono carine, però forse sono un po' troppo bambinesche per i miei gusti, ma le trovo comunque carine. Queste copertine sono ancora disponibili. Quest'edizione la trovate ancora disponibile nelle librerie, soprattutto in quelle fisiche magari. La trovate e al momento continua a valere il prezzo di copertina, perché non è così ricercata, non è così introvabile. Quindi anche nel 2020, ragazzi, se volete recuperare questa edizione, la trovate ai prezzi di copertina. Trovate i libri anche su Amazon. Ma adesso andiamo ancora indietro nel tempo. 2019. Nel 2019 non troviamo una nuova edizione intera della saga, ma troviamo davvero poca roba. Troviamo solamente la versione brossurata della versione illustrata della Camera dei Segreti e della Pietra Filosofale di Jim Kay. Quindi, in questo caso, versione in copertina flessibile di questi due volumi. La terza, che o sappia, non è ancora arrivata e neanche la quarta, che probabilmente usciranno quest'anno, mi auguro. Perché quest'anno dovrebbe anche uscire il quinto volume di Jim Kay. Quindi, Harry Potter e l'Ordine della Finisce illustrato. Quindi, 2019, questi due volumi, che al momento sono ancora disponibili anche loro su Amazon. 2018. Ragazzi, nel 2018 ricorre il ventesimo anniversario di Harry Potter. E abbiamo ben due edizioni nuove intere della saga. Abbiamo la prima edizione, la prima è quella lì con il cofanetto nero. Con le copertine nere e le copertine che sono disegnate a matita. Quindi, abbiamo queste copertine molto particolari che, messe tutte assieme, una dopo l'altra, dalla prima alla settima, vanno a creare un'unica lunga immagine. Quindi, dove c'è questo serpente che va ad attraversare tutte e sette le copertine. E, in questo caso, questo cofanetto lo trovate ancora su eBay, dai privati, si riesce a trovare. Non è rarissimo. Costa leggermente di più rispetto al prezzo di copertina. Soprattutto se lo trovate ancora imballato. Perché era presente proprio un cofanetto. Ma erano venduti anche singolarmente libri. Infatti, ancora su Amazon si trovano alcuni. E, parlando del cofanetto intero, qualora lo trovaste, il suo valore si aggira attorno ai 150 euro. Quindi, qualcosa in più rispetto al prezzo di copertina. Invece, lo stesso anno, vi ricorderete che sono stati rieditati tutti e sette i libri della saga di Harry Potter con le copertine della prima edizione. Le copertine, quelle che chi ha qualche anno in più come me, ha sicuramente a casa. Quindi, le primissime copertine di Harry Potter sono state riprodotte in formato cartonato, questa volta senza sovracopertina, col bollino del ventesimo anniversario. Queste copertine sono uguali a quelle della prima edizione, ma la traduzione all'interno, invece, è quella nuova. Quella con tassofrasso, salice schiaffeggiante, con i nomi mezzi in italiano e mezzi in inglese, quella che conosciamo. E, in questo caso, questa edizione è passata un po' in sordina. Non tutti l'hanno acquistata e oggi andare a reperire i vari pezzi sfusi, perché non è uscita in un cofanetto, ma erano venduti singolarmente, andarli a recuperare tutti è un po' complicato, soprattutto per gli ultimi tre volumi. E, in questo caso, per recuperare tutte e sette i libri, bisogna andare a preventivare una spesa di circa 180 euro. Quindi, ragazzi, acquistarla già tutta intera, tra i 150 e i 200 euro, è un prezzo giusto. Non fatevi spennare come polli quando vi chiedono 3, 4, 500 euro, perché non è assolutamente il prezzo di mercato ad oggi. Quindi, 2018 archiviato. Adesso passiamo al 2017, 2016, 2015. In questi anni non ci sono state saghe complete rilasciate da Salani, ma solamente una ogni anno le versioni illustrate da Jim Kay. Quindi abbiamo Harry Potter e la Camera dei Segreti, Harry Potter e il Pigioniero di Azkaban, Harry Potter e la Pietra Filosofale, tutti e tre i primi volumi, tutti e tre in copertina rigida, illustrati da Jim Kay. Alcuni volumi cominciano già a diventare un po' difficili da trovare, ma si trovano. Su Amazon alcuni sono disponibili, su Amazon si trova anche il cofanetto con tutti e tre i volumi, al prezzo di copertina. Quindi sono ancora reperibili, però questi piano piano andranno sicuramente ad aumentare il loro valore, ma al momento mi sento di dire senza dubbio che valgono il loro prezzo di copertina. A maggior ragione, se sono di seconda mano, valgono anche meno. Quindi parliamo di volumi nuovi, visto che si trovano. Sono ancora disponibili, quindi se ci state ancora pensando, prendeteli adesso. Anche nel 2014 arriva una nuova edizione della saga di Harry Potter. In questo caso le copertine a me non sono piaciute particolarmente. Secondo me non è stata neanche un grande successo. Aveva anche in questo caso la nuova traduzione. La cosa carina secondo me erano le coste tutte di colori diversi, che erano abbastanza gradevoli messe tutte assieme, ma le illustrazioni non mi hanno mai fatto impazzire. Ho visto queste copertine per anni esposte sugli scaffali. Infatti uscì nel 2014 e non ci sono state nuove edizioni, se non nel 2018. Quindi quattro anni questa edizione è rimasta sugli scaffali e infatti il suo valore si aggira attorno ai 150 euro. Quindi non sono ricercatissimi. Nel 2013, per il quindicesimo anniversario di Harry Potter, Salani ha rilasciato una nuova versione della saga. E si tratta della famosa edizione Castello. Quella che al momento tutti vogliono, tutti cercano, la gente sembra impazzita per questa edizione, che è sì, secondo me, una di quelle più belle, soprattutto per le illustrazioni delle copertine, che sono molto molto belle, e venne venduta sia a sfusa che all'interno di un cofanetto. Ragazzi, questa è molto molto ricercata. Al momento nelle librerie, su Amazon, facendo un po' di giri, quindi si riescono a reperire i volumi sfusi. Ma se parliamo del cofanetto, ad oggi un cofanetto sigillato vale circa 400 euro. E la stessa saga senza il cofanetto, la stessa edizione senza il cofanetto, scende a circa 300 euro, 310 euro, parliamo di ottime condizioni. Vi posso dire che la sola box viene venduta a circa 90 euro. Quindi, quando l'acquistate, fate attenzione se è presente la scatola, perché quella incide per circa 90 euro sul valore della collezione. Quindi, tutta la saga Castello può valere 300 euro. Si spera di pagarla anche qualcosa meno, l'ho vista venduta anche a 250, 240, ma l'ho vista venduta anche a 350. Quindi, facendo una media, stiamo attorno ai 300 euro. Qualora fosse completa di box, ancora chiusa, Allora, 400 rivale assolutamente. Se non fosse sigillata, 390, 380, ci stanno, ragazzi. La cifra è più o meno quella. Invece, andando ancora indietro nel tempo, arriviamo al 2011. Nel 2011 esce per la prima volta la nuova edizione, con la nuova traduzione, quindi quella con tasso frasso e salice schiaffeggiante e compagnia bella, esce per la prima volta nel 2011 nell'edizione tascabile. L'edizione è quella con le copertine bianche in copertina flessibile, che anche questa è stata disponibile per tanto tempo. La trovavi anche da Oshan, la trovavi da El Sedunga, la trovavi ovunque, dentro i cesti dei libri. Si trovava davvero ovunque questa edizione. E in questo caso, i primi tre volumi valgono più o meno il prezzo di copertina. Più si va avanti nella saga, meno persone l'hanno acquistata, più valgono i volumi. Il sesto e il settimo volume probabilmente sono quelli che costano di più e che incidono di più sul valore di questa edizione. Ho fatto una media dei prezzi dei singoli volumi e delle edizioni e dei sette volumi venduti tutti assieme su eBay e su Facebook e sono arrivato alla conclusione che per poter mettere assieme tutti e sette volumi bisogna preventivare una spesa di circa 150 euro. Quindi anche in questo caso siamo leggermente sopra il valore, il prezzo di copertina, quindi hanno acquistato un po' di valore nel tempo, ma nulla di eclatante. Ma adesso ci spostiamo ancora indietro nel tempo e passiamo al 2007-2008 dove ancora troviamo la vecchia traduzione, quindi quella con Tasso Rosso, Platano Piccliatore, tutti i nomi italianizzati, con Neville Pachock, eccetera, eccetera, che ancora oggi viene utilizzata anche nei film di Animali Fantastici perché i film si basano sulla vecchia traduzione e quindi anche i film di Animali Fantastici si basano ancora su quella e Tasso Rosso è rimasto Tasso Rosso, fortunatamente aggiungerei. E ragazzi, in questo caso troviamo nel 2008 una edizione completa dei sette volumi, quindi con le vecchie copertine, con le vecchie traduzioni, ma in formato brossura. Questa è abbastanza rara, si è vista poco in giro, esiste, ma ogni tanto si vede in giro qualche copia, qualche volume, ma anche in questo caso il loro valore è già cominciato a salire. E infatti per reperire l'intera saga brossurata con la vecchia traduzione mettete in conto circa 200 euro. Invece, a fine 2007, Salani rilasciò, quindi una volta conclusa la saga, conclusi tutti i volumi usciti singolarmente, rilasciò il primo cofanetto che è quello che sulla costa va a formare il motto di Hogwarts, Draco Dormiens Nunquam Titillandus. E in questo caso già il cofanetto ha un bel valore. Questa edizione dentro il cofanetto è venduta senza le sopraccopertine, mentre invece nei volumi sfusi era presente la sovraccopertina e addirittura l'ultimo volume, Ripotter e Doni della Morte, quindi l'ultimo volume, prima edizione, prima stampa, sotto la sovraccopertina ha l'ultima parte del motto, quindi è uguale a quello che troviamo all'interno del cofanetto. Mentre i volumi precedenti, dall'1 al 6, sotto la sovraccopertina avevano semplicemente dei motivi geometrici. Infatti nella mia collezione personale i primi 6 volumi hanno i motivi geometrici e l'ultimo invece ha la parte finale del motto di Hogwarts. In questo caso l'intera serie che va a comporre il motto di Hogwarts ha un valore di circa 300 euro, quindi parliamo dell'intera collezione in buone condizioni, in ottime condizioni e possibilmente col cofanetto. In questo caso 300 euro lì vale. Tornando ancora indietro nel tempo, invece nel 2002, incontriamo una edizione specialissima di Harry Potter e la Camera dei Segreti. Si tratta di un Harry Potter che è stato pubblicato in occasione dei 140 anni della casa editrice Salani. Questa edizione era numerata ed era limitata a 1500 copie. Io ho effettuato diverse ricerche su internet, l'ho cercato in lungo e largo. Su eBay non ho trovato copie disponibili, ho trovato alcune case d'aste che avevano delle copie, alcuni privati, e facendo un po' una media del venduto, a quanto pare questa copia della Pietra Filosofale limitata a 1500 pezzi vale 1500 euro. Quindi ragazzi, qualora la veste, avete un bel tesoretto tra le mani. Ma adesso siamo arrivati alla fine, dove ci tocca parlare delle prime edizioni di Harry Potter, quelle pubblicate man mano negli anni, volume dopo volume. E cominciamo da Harry Potter e la Pietra Filosofale nel 1998. La prima edizione, prima stampa, è la famosa variante di Harry Potter senza occhiali. Questa, come vedete dall'immagine che ho messo qui accanto, è la copia più ricercata in assoluto. Questa copia contiene appunto l'errore di Harry senza occhiali che viene subito corretto nella seconda stampa, quindi nella prima ristampa, anzi possiamo chiamarla così, che io vi ho mostrato in un video che ho acquistato su Ebay per circa 60 euro, sono stato molto fortunato. E questa copia, la prima edizione, prima stampa, vale 1000 euro. Posso dire con certezza che, ragazzi, vale 1000 euro. Vedo gente che la vuole vendere a 1500-2000 euro. Ragazzi, il suo prezzo al momento, il prezzo giusto per una copia in ottime condizioni, senza strappi e senza nulla, è di 1000 euro. Puliti. 1000. Non fatevi fregare 2000 euro, poi ci sta 1100 come ci sta non recento, ma 1000 euro è un prezzo più che onesto per questa copia al momento, ad oggi, gennaio 2021. Poi, tra un anno, magari, non lo sarà più, tra sei mesi potrebbe non esserlo più. Invece, se parliamo della prima ristampa, dove è stato corretto l'errore degli occhiali di Harry, dove troviamo il font di colore rosso, e sulla costa ancora non appare l'anno, quindi non appare primo anno, visto che neanche forse si sapeva quanti anni, quanti libri ci sarebbero stati, in quel caso, che è appunto la copia che posseggo io, ed è la copia appunto della prima ristampa, in questo caso vale circa 100 euro. Diciamo che 100-120 euro sono un prezzo adeguato per una copia in ottime condizioni. La mia, ad esempio, aveva una dedica all'interno, aveva la copertina leggermente strappata, quindi l'ho pagata 65-69 euro. Quindi, prima ristampa, seconda ristampa, più andiamo avanti, terza ristampa, quarta ristampa, naturalmente più scende il valore, quindi tenete conto che la prima ristampa, quindi quella subito successiva, quella senza occhiali, vale 100 euro. Quindi, più andiamo avanti, meno soldi devono chiedervi. Lo stesso vale per la Camera dei Segreti e Prigioniero di Azkaban. I primi tre volumi, in prima stampa, in prima edizione, non riportano l'anno sulla costa, quindi non c'è scritto primo anno, secondo anno, terzo anno. C'è solamente il titolo e non è neanche presente il font dei film, quello là con la setta, quindi Harry Potter è scritto in un carattere normalissimo. In questo caso, prima stampa, intorno ai 100 euro, successivi andiamo a scendere. E adesso invece poi, parlando di quelli successivi, quindi quarto, quinto, sesto, settimo libro, in quel caso i prezzi variano. Diciamo che siamo attorno ai 50, 60, 70 euro per le prime edizioni, prime stampe. E, ad esempio, chi come me ha un'intera collezione, quindi chi volesse comprare tutti e sette i libri della prima edizione con la vecchia traduzione, con le sovracopertine, il prezzo giusto è di circa 250, 300 euro. Se teniamo conto che dal primo al quinto libro magari ci siano delle ristampe a caso, ventesima, quindicesima, sedicesima, e le ultime tre devono però essere prima edizione. Se gli ultimi tre volumi sono prima edizione, allora, in quel caso, 250, 300 euro è la cifra giusta. Se invece gli ultimi tre volumi sono edizioni molto più in avanti, non lo so, terza, quarta, quinta, sesta ristampa, allora, in quel caso, tutta l'intera saga, anche 200 euro vanno bene. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Questo video, credo, sia durato un'eternità, ma spero di avervi dato un'infarinatura generale sul valore di tutte le edizioni. Queste sono tutte le edizioni della saga che sono state commerciate ad oggi in Italia. Quindi, i valori sono questi, più o meno di ogni libro, di ogni edizione. Quindi, ragazzi, state attenti, occhi aperti, qualsiasi dubbio, contattatemi anche privatamente su Instagram, Antonio.seria. Sono sempre contento di potervi dare una mano, di valutare i vostri acquisti. Non c'è alcun problema, magari non rispondo nell'immediato, ma state tranquilli, vi rispondo e chiarisco i vostri dubbi in merito. Quindi, ragazzi, fatemi sapere se questo video vi è tornato utile, se vi sembra interessante. Io spero di avervi offerto un servizio con questo video, perché in tanti mi contattate e vedo molta confusione in merito al valore di questi libri. E, qualora vi faccia piacere, io ho intenzione di fare anche un video relativo alla biblioteca di Hogwarts. Quindi, Bedelbardo, Animali Fantastici e Quiddici Attraverso i Secoli, perché anche quelli hanno dei valori un po' differenti fra loro. Ragazzi, detto questo, direi che è il momento di salutarci, di darci appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Ciao! 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 Grazie a tutti.